bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi tantissime novità anche per oggi per quello che riguarda il futuro di fortnite andremo a vedere i primi leaks per quello che riguarda la stagione 3 tante immagini tante curiosità ma vedremo anche alcuni piccoli dettagli tra cui il ban di un povero bambino di 9 anni e tanto altro ancora prima volevo però ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e quindi andiamo direttamente al primo argomento di oggi si tratta direttamente del post ufficiale nella pagina di fortnite su twitter che annuncia l'arrivo del lava legends pack per chi ancora non lo sapesse o non avesse guardato nella sezione dello shop troverete per la seconda volta il bundle quindi potrebbe anche essere l'ultima come successe appunto con il frozen legends pack un'ottima occasione per arricchire il vostro armadietto se per caso ancora non l'avevate scioppazzato e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi si parla già di fine season 2 ad alcuni giocatori sta accadendo una cosa molto particolare vedono dei dettagli in lobby che non tutti vediamo voglio farvi vedere uno gameplay uno spezzone ragazzi che vi commento mentre guardiamo insieme già nella lobby sulla sinistra ci sono questi cavi rossi e anche nella pagina principale del tavolo degli agenti noterete adesso appena torno dietro la videocamera ecco qua l'inquadratura che ci sono tantissimi cavi rossi che portano la corrente questi cavi sono direttamente collegati con la macchina del doomsday quella che mida sta creando e che ben presto cercherà di attivare per non lo sappiamo non lo sappiamo perché cosa lo vorrà attivare ma sappiamo che molto probabilmente dalla nuova patch e sarà la patch 12.60 è fortemente probabile che la lobby verrà modificata e che qualcosa succederà sulla macchina del doomsday state connessi perché appena ci sarà qualche novità la saprete anche voi e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi si parla ovviamente di patch mi avete chiesto in tantissimi durante le mie live ovviamente su twitch quando c'è la pace questa settimana facciano fixano no purtroppo ragazzi pensavamo di vedere la luce nella 12.51 ma invece sono riusciti a sistemare direttamente nel game nel gioco cioè mentre giochiamo dei piccoli bug quindi non è inserita la patch 12.51 negli status server questo vuol dire che non c'è praticamente si va direttamente alla 12.60 che sarà quasi certamente l'ultima patch della season 12 oppure season 2 del capitolo 2 chiamatela un po come vi pare perché poi il 4 giugno vedremo la patch 13.50 00 della season 3 e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi volevo fare un attimino una delucidazione ieri per chi ha visto il video news abbiamo parlato dello starter pack che dovevamo capire ne mettono uno in questo mese sarà della prossima season beh qualcosa abbiamo scoperto ragazzi ed è confermato che hanno già creato lo starter pack che si chiama yellow jacket ma non è il nome ufficiale semplicemente non ha ancora un nome ma arriverà nella prossima season quindi questo è già il lo starter pack della season 3 del capitolo 2 di fortnite perché ne siamo certi perché sono state trovate le stringhe di codice di questo starter pack sovrascritte su quelle del pack iris con ancora moltissimi dettagli che sono appunto di iris quindi non penso che avranno tempo di inserirlo non avrebbe neanche senso inserire due starter pack in un'unica season andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi e qua si parla di nuovo di collaborazioni importanti come sapete oramai è già un bel po che fortnite si è mosso per collaborare con degli artisti di fama mondiale marshmallow major laser il dj diplo e tanti altri e ci sono delle voci di corridoio che parlano addirittura di una collaborazione di fortnite con lady gaga allora la persona che ha detto questa cosa è abbastanza conosciuta nel mondo dei leakers però alla domanda dove hai preso queste informazioni la risposta è stata voci di corridoio ora ci sono state delle occasioni in questi anni dove ci ha preso ok e sono arrivate dei leaks che poi si sono rivelati corretti questo sarebbe un colpaccio nel senso una collaborazione con lady gaga sarebbe un qualcosa di molto particolare e molto curioso magari si potrebbe trattare di un'altra icon series non lo sappiamo prendetelo ovviamente con le pinze e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché per chi non lo sapesse hanno tolto lo che cavolo è lo skill basic matchmaking praticamente da adesso se andate a giocare in squadra non avrete più il matchmaking basato sulle skill del giocatore che cosa vuol dire vuol dire che ieri quando l'hanno tolto c'è stata della gente che ha fatto 23 kg in solo v squad ok mi spiego trovate gente che prende il controller al contrario oppure usa la tastiera rovesciata quindi fateci un salto se volete divertirvi un pochettino buttatevi in solo v squad e proveremo anche oggi noi a farlo e noterete appunto che non c'è più il matchmaking basato sulle skill e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi la notizia tristissima che arriva un bambino di 9 anni è stato bannato da fortnite ed è veramente una cosa talmente assurda che ha fatto in poche ore il giro del mondo parliamo di un video che ha fatto 720.000 visual in cinque ore e sei ore voglio farvi vedere un attimo lo spezzone innanzitutto vi spiego perché ragazzi lo vediamo tanto parlano in un'altra lingua quindi c'è questo bambino che è disperato povero con suo padre sopra che che sta streamando anche lui perché il bambino è stato bannato perché gli hanno fatto una porcata c'è stato un periodo un'oretta una roba del genere in cui suo papà si è allontanato dalla piange piange tantissimo si è allontanato dalla sua postazione per fare altro ha lasciato il live su twitch il bambino da solo a giocare qualcuno lo ha riportato e come sapete per il regolamento di twitch e per il regolamento di fortnite non è possibile giocare davanti al computer e soprattutto non è possibile andare in streaming se si è inferiore ai 14 anni e non si è supervisionati da un adulto quindi è ovviamente scattato il panico generale da parte della community che chiede di riammettere ovviamente questo poverino questo bambino che è stato appunto bannato non dico ingiustamente perché se ci sono delle regole vanno rispettate e quindi una notizia staremo a vedere ma voglio invece farvi vedere una cosa molto più interessante sbam questa è una roba incredibile è un è un concept però è un concept fatto da una persona che anche qua è molto vicino ad epic games potrebbero essere delle bozze colorate e migliorate per quanto riguarda la mappa della season 3 sappiamo che ci entrerà l'acqua sappiamo che qualcosa verrà sommerso non sappiamo cosa verrà sommerso ma è molto probabile che ci si avvicini davvero tanto a quello che state vedendo come vedete parco pacifico rimane sommerso ma sicuramente l'acqua è bassa quindi si potrà destreggiarsi abbastanza comodamente fattoria totalmente sommersa tranne alcuni punti la piccola agenzia in alto a destra dove ci sono foschi fumaioli ancora rimane fuori perché su una montagna foschi fumaioli essendo praticamente a livello del mare tagliata via fuori le ciminiere e i palazzi più grandi e anche per quanto riguarda qua sotto il pantano palpitante il pozzo il pozzo esplode ancora di più come vedete pantano palpitante anche lì rimane molto più sommerso di quanto non l'è adesso e poi invece notiamo che tutta la parte destra della mappa è pressoché simile prendete questa immagine con le pinze però è davvero molto molto interessante e potrebbe rivelarsi così secondo quanto sappiamo e secondo quanto questo leakers sostiene insomma ragazzi tante notizie stanno lentamente arrivando per quanto riguarda la nuova season di fortnite che giorno dopo giorno si avvicina io vi ringrazio tantissimo per avere dato questo video mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e noi ci vediamo proprio adesso in live su twitch ciao